Ciao a tutti, sono Marco, ho 57 anni e come tanti uomini di questa età soffrono di prostatite, o quantomeno hanno quei disturbi urologici che li portano ad alzarsi più di una volta alla notte, magari quel bruciore, quella sensazione di avere ancora del liquido nella vescica che non si è liberata completamente, insomma quei disturbi che noi maschietti abbiamo, finché un giorno navigando su internet vedi questo prodotto che si chiama Prostraticum della Neo Elementum. Non ci ho pensato due volte a chiamare un consulente con una professionalità eccellente, sono dei specialisti del settore, mi hanno consigliato il ciclo, mi hanno informato sui componenti di questo prodotto. Sono delle capsule che bisogna assumerle due a pranzo e una a cena, ho fatto un ciclo importante di tre mesi, devo dire che adesso mi trovo benissimo, non ho più quei disturbi e lo consiglio a tutti, che è un prodotto naturale al 100%, come dicevo, estratti vegetali, quindi il Prostraticum della Neo Elementum, beh, se poi qualcuno dovesse avere dei dolori atroci, beh, a quel punto è consultare un medico, perché potrebbero esserci, insomma, delle misure estreme e stratiche, speriamo, speriamo di no. Io vi consiglio Prostraticum per tutti i vostri problemi della Prostatite, della Neo Elementum. Ciao, grazie, ciao.